... Inaugurata oggi la Casa della Musica, che è un evento importante qui a Dostuni. Com'è la partecipazione della gente innanzitutto e quale futuro si prospetta per questa novità nella città? È una partecipazione, sicuramente le immagini lo dimostreranno, veramente forse inaspettata. Certamente l'offerta musicale di quest'oggi è un'offerta di alto livello. Il maestro Vissicchio, Marco Armani, Gegè Telescuoro hanno coronato quello che per gli ostonesi può essere un sogno, un momento di un centro di aggregazione giovanile voluto a recuperare, voglio dire, la musica ma non solo, perché il laboratorio Casa della Musica è anche un centro in forma giovane, è anche una biblioteca, è una sala di registrazione, è una sala convegni. Quindi è un'occasione grande che sicuramente i giovani di Ostuni sapranno sfruttare al meglio. Io credo che ci debba anche essere l'esigenza di uno scambio di esperienze professionali, che quindi il laboratorio non voglia rivolgersi esclusivamente a un target giovanile, ma possa anche raccogliere le milioni di energie che questa città ha sicuramente al suo interno, valorizzarle e portarle, voglio dire, a sintesi. È stata inaugurata quest'oggi la Casa della Musica, un evento importante per la città bianca. Come si prospette un po' in futuro questa novità? Aspettavamo da tanto tempo questa inaugurazione, questo giorno, perché quando i giovani li avvicini alla musica, li avvicini a tutto. La musica toglie quelle barriere, che non è come la politica, come la religione, sulla musica non ci sono barriere. Questo è un piacere che noi come amministrazione comunale di Ostuni ci tenevamo tanto e per fortuna siamo riusciti ad approvare questo progetto. Abbasciare la marina se vengono pesce e tu ogni e da mia mo' la vuoi fornesce quanto è bella il tuo primo amor, l'us donna è più bella ancora. E non faccio per rispettare la metrica, ovviamente. Quindi abbasciare la marina se vengono pesce e tu ogni e da mia mo' la vuoi fornesce quanto è bella il tuo primo amor, l'us donna è più bella ancora. Mo' mi frego io. E down to the seaside there's house the fish and you, my little baby, don't want to finish always nice the first love but a second even more. e non è perfetta meno. E noi restiamo qui ad aspettare in alba che non deve mai arrivare con i brividi di freddo cercando un posto per conoscerci e con le spalle che si toccano con l'asolo rosso che ti gocciola siamo finiti qui a confinarci con le nuove le e di stanza in un po' e di stanza in una città c'è chi parla e c'è chi fa c'è chi è venuto chi il cuore non ha e chi sta contendo e chi l'amore non ha tu nel mio cuore serai tu nel mio cuore serai senza parlare il cuore tu che mi fai donare si che un cuore serai un cuore nero che mori che si venga più forte e che non ci vedi mai 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 si che un cuore serai un cuore nero che mori tu nel mio cuore serai tu nel mio cuore serai tu nel mio cuore serai mai 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 che non ci fermi mai mai mi mai mi